Il farmaco è indicato in casi più severi e quindi spesso la scelta non si pone. L'argomentazione primaria è che se si aumenta l'erogazione, alla fine c'è tutto da guadagnare. Questa è una cosa che dovete continuare a ripetere, una sorta di ritornello. C'è un dato economico e in sterline si è calcolato che il costo dei trattamenti in media per paziente sarebbe stato di 750 sterline. Che in euro sarebbero 1.100 euro più o meno, giù di lì. I benefici per la società. Un'aumentata produzione, capacità di reintegro lavorativo pari a 1.100, risparmi, tagli dei costi medici, si vede meno il medico di famiglia, meno ricorso ai farmaci. E' un incremento degli anni di vita ponderati per qualità, siamo a 3.300. Quindi questi sono i benefici per la società. I benefici per il contribuente, per l'erario, erano anche consistenti. Quindi extra imposte versate, meno indennità versate, risparmio dei costi medici. Quindi il tutto funziona e porta a casa dei risultati, dei guadagni. Poiché è difficile trovare lavoro, è ancora più difficile proporre queste argomentazioni. Forse è più difficile tornare al lavoro. Quindi questa argomentazione resta difficile, però resta valida. Nel 2006-2007 il governo ha deciso di partire e ha assegnato a due siti battistrada pilota, per vedere cosa sarebbe accaduto laddove si fossero aumentati questi trattamenti psicologici, ebbene ha deciso il governo di assegnare a questi due siti pilota Newham e Doncaster una cifra. E sono tutti luoghi, sedi con delle minoranze etniche di colore. E nel programma era prevista la cura, cosiddetta gradini stepped, ovvero dare il livello di trattamento più appropriato al paziente. Un po' come una piramide, un triangolo. La maggior parte dei soggetti richiederanno un trattamento a bassa intensità e il minor carico per voi. Un piccolo numero di soggetti richiederà terapie a maggiore intensità. Via via che ci si avvicina all'apice della piramide. Quindi se si fallisce a un livello si può sempre, ove necessario, passare a un grado di intensità maggiore, fare lo step up. E si è introdotta una nuova figura professionale, il cosiddetto operatore o professionista del benessere psicologico. Una nuova professione disegnata. Alcuni errori sono stati compiuti in passato. Molti dei soggetti che abbiamo reclutato anche per questa figura erano molto giovani, erano inesperti. E anche se erano stati formati al supporto, a interventi a bassa intensità, lo vedevano come un passo nella propria carriera. Volevano diventare psicologi a pieno titolo o professionisti della salute a tempo pieno. Quindi per loro questo faceva parte del proprio curriculum. Ebbene, non era questo l'obiettivo. È molto importante arruolare, reclutare soggetti che sono impegnati, che credono nella professione, possano diventare professionisti del benessere psicologico. Magari soggetti più esperti, più anziani. E si deve prevedere anche una crescita di carriera in seno a questa stessa figura. Quindi c'è un supporto che viene dato in sede di interventi con terapia cognitivo-comportamentale computarizzata o biblioterapia. La maggior parte del lavoro viene fatto per telefono. Quindi il soggetto guida nell'uso di materiale di autoaiuto. Il cliente, il paziente, viene chiamato una volta alla settimana e si fanno delle misurazioni. Si cerca di misurarne la depressione, la qualità della vita, l'ansia. Questo richiede cosa? 5-10 minuti. E poi si fornisce il sostegno per verificare che la terapia, che è nel libro o nel computer, stia seguendo il giusto corso se ci sono domande. Quindi la terapia viene erogata attraverso il computer ed è il soggetto, il professionista è una sorta di cheerleader, è un facilitatore. Non sono proprio terapisti questi, non sono terapeuti, sono supporter. Abbiamo formato anche un certo numero di terapeuti ad alta intensità. e abbiamo anche aggiunto dei consulenti del lavoro. Quindi prima vedi il terapista a livello locale, poi passi al consulente del lavoro che magari ti può aiutare a essere reintegrato nel posto di lavoro o a risolvere conflitti con il datore di lavoro. Quindi si cerca di fare più cose contestualmente. Sottolineo l'importanza di un monitoraggio degli esiti seduta dopo seduta. Se fai un monitoraggio prima e dopo puoi tener conto dell'andamento. Per giustificare al governo devi avere dati alla mano. Devi dimostrare il miglioramento acquisito, qualità della vita, guadagnata, reintegro lavorativo. Queste cose devi poterle provare dati alla mano. Altra cosa, sperimentata presso questi due siti, l'autoinvio. Tradizionalmente in Inghilterra devi essere inviato dal medico di famiglia allo specialista, allo psicoterapista. Molti soggetti non amano passare attraverso questo percorso. Vorrebbero direttamente accedere a queste terapie. Soprattutto per le minoranze etniche di colore questo è importante. C'è un stigma legato al fatto di essere affetto da un disturbo mentale. Quindi la via diretta al terapista è quella preferenziale per loro. ci sono state delle resistenze alcuni ritenevano che si sarebbero attratti molti soggetti preoccupati soggetti che in realtà non avevano bisogno di questi servizi. Eppure abbiamo voluto sperimentare chi avrebbe potuto godere di questo autoinvio. Innanzitutto si sono raccolti i dati in questi servizi pilota Doncaster il 99% dei pazienti ha fornito dati esaustivi. È un dato straordinario questo avere il 99% dei dati completi eccezionale. Un alto numero di pazienti è stato trattato presso questi siti dimostrativi 3.500 nel primo anno. Soprattutto a Doncaster hanno usato molta terapia cosiddetta bassa intensità. A Doncaster hanno molti soggetti depressi e ci si preoccupava che si sarebbero persi molti soggetti invece affetti da ansia. In questi siti dimostrativi abbiamo visto che l'esito era in linea con quanto si trova nei trial randomizzati e nelle guida del NICE quindi il target era ottenere un recupero nel 52% dei soggetti. Si è dimostrato anche beneficio in termini occupazionali e si è dimostrato anche un persistere del guadagno acquisito nel tempo. Grazie.